Una strada di Santa Maria Capovetra è da intitolare a compianto campione di motociclismo Franco Carrano. E questa è la proposta del presidente del Coni Provinciale, Michele De Simone, avanzata nel corso della premiazione della terza edizione del Motoraduno Nazionale Franco Carrano, organizzato dal gruppo motociclistico sanmaritano del CAMEC, presieduto da Giacomo Roccatagliata. Premiati i centauri, le loro rispettive due ruote nel corso di un happening che ha visto le consegne di targhe e coppe destinatari, i partecipanti, ma soprattutto i familiari del campione, la figlia Elena, sua moglie Elisabetta, il fratello, la sorella e i nipoti. Premiato anche un gruppo di donne motocicliste, tra queste Leonora della Volpe, Elena Carrano, Roberta Cecere, Federica Pascarella e Rosa Falde. A sfilare all'ombra dell'anfiteatro campano anche uno Shift T900, uno dei tre modelli rimasti in Italia, guidato dal centauro Ettore Freda. Anche per questa edizione è stato notevole lo sforzo organizzativo del presidente del CAMEC, sostenuto da un folto gruppo di amici, tutti legati da affetto e amicizia alla famiglia del centauro scomparso. hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al mondo del motociclismo, con la donazione di targhe, coppe e trofei, anche la Regione Campania, l'amministrazione provinciale, la Camera di Commercio e il Comitato Provinciale del CONI, l'amministrazione di Santa Maria Capovettere, nonché numerosi sponsor.